Fidate dalle imitazioni, vedo online delle cose aberranti, ad esempio le frasi per abbordare e rimorchiare, tra cui vuoi salire e diventare la mia password, e direi no, voglio che tu sia il messaggio dell'antivirus che mi chiede di essere aggiornato, che rimando sempre, ecco, oppure vuoi salire e vedere la collezione dei miei manchi che non t'ho mai detto, no 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 raga, no no no, no 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 no, per fortuna che oggi è martedì, e vi metto tutto in riga, il che significa Fumacupido risolve, ovvero l'unica rubrica a colpi di SESOBDOLO, SESOBDOLO, LASCALO, LASCALO, RISOLVE tutti i vostri problemi, lasciamolo sui pochi semplici mosse, per partecipare al Fumacupido è molto semplice, mail, solo mail, no direct, no instagram, no twitter, no consulti privati, con oggetto Fumacupido, Fumacupido e poi solo in caso di aggiornamenti, e tra poco farò un Fumacupido e poi perché finalmente c'è gente che mi ha aggiornato, effettivamente, e mail non troppo lunghe, nickname Trasciamoroso per il material animato, tutto ciò che viene inviato al Fumacupido, il resto del Fumacupido, no ripensamenti, perché io le scendo a caso le mail, quindi se voi mi dite la mail, mandatela a me dopo, non leggerla, io non lo leggo con la seconda mail perché ormai ho aperto la vostra, e pazientate, perché me ne arrivano un sacco, come sempre, e recupero anche mail di due anni fa, quindi anche se avete già risolto potrete rientrare nel Fumacupido. Partiamo subito da banana in pigiama, ti scrivo per farmi consigliare su questo problema che mi affligge da tempo, premetto che sono fidanzata da un bel po' ormai, non conviviamo data la giovane età, ma comunque il nostro rapporto è sempre andato a gonfie vele, se non per il fatto che a volte la mia felicità sembra dipendere da lui, dal mio fidanzato che chiameremo nocciolato, da poco ha iniziato, vabbè la banana col nocciolato ci sta bene in effetti, Da poco ha iniziato a lavorare, all'inizio è stata fiera di lui, ma poco dopo, egoisticamente, riesco a stare male, perché lavorando abbiamo pochissimo tempo per stare assieme. Mi sono arrabbiata tantissimo con lui, e in cuor mio so che non è affatto giusto nei suoi confronti, ma la cosa mi turba tantissimo, mi sento sola e trascurata. Lui non la vive così, dice che sente la mia mancanza ma continua a fare ciò che si sente, e probabilmente ha ragione, e io non faccio altro che sentirmi una patetica rompiscatole. Come posso fare per prendere una cosa sportivamente e tenermi occupata? Complimenti per il canale, grazie se leggerai questa mail, un abbraccio, banana in pigiama, un abbraccio e un bacione anche a te. Allora, carissima, capisco il dramma, soprattutto se lui lavora otto ore al giorno, come i normali cristiani, e arriva a casa, e il tempo che ha lo dedica a te, ma comunque per te è poco. Io capisco il dramma tuo, che magari stai ancora studiando, o non hai un'occupazione, quindi hai del tempo libero, però dall'altro lato non devi vedere questa sua cosa come non è più innamorato di te, non tiene più a te. È semplicemente che ora ha un altro dovere, ha un altro dovere che sarà necessario poi, tra l'altro, nel caso vogliate convivere assieme in futuro. Cioè, quello che fa, lo fa anche sicuramente per se stesso, anche perché comunque avere uno stipendio, avere un'indipendenza, sentirsi realizzati, è importante per chiunque. Però, comunque, devi considerare che anche, nel caso vogliate costruire una vita assieme, è necessario che voi due siate indipendenti anche a livello economico, e che siate in grado di costruire qualcosa assieme di effettivo. Quindi, quello che ti consiglio è, per quanto sia forte la tua solitudine, devi fare in modo di comprendere, in un certo senso, quello che lui fa. Diverso è, ovviamente, se quando vi vedete lui è distante, distaccato, non ti tratta come una volta, allora quello è un problema. Però, in linea generale, se lui è comunque lo stesso, ma semplicemente non può neanche risponderti al telefono, perché se lavora non è che può cazzeggiare, e, quindi, devi capire, devi essere super empatica, in questo senso. E quello che puoi fare tu, invece, è cercare di occupare il tuo tempo, di non dipendere, effettivamente, da lui. Perché, per quanto l'amore sia forte, l'errore che si compie, e che invece è mortale, e che porta anche alla distruzione di coppie felici, è proprio il fatto che si dipenda dal partner al 100%, quando, invece, anche in coppia, si è individui singoli, e quindi devi fare in modo di fare delle cose che rendano te felice e completa. Perché non cerchi un lavoretto anche tu? Magari non ne senti bisogno, perché, che so, magari stai studiando, e, non lo so, magari hai, vivi ancora con i tuoi, però un lavoretto o un hobby, in particolare, non necessariamente per obiettivo economico, dico, ma proprio per realizzazione anche tua, per conoscere nuove persone, per uscire con gli amici, ci sono tantissime cose della vita di ciascuno, che escludono, ad esempio, la vita di coppia. Poi, quando si cresce, la vita di coppia e la vita, invece, individuale, diciamo che sono una sorta di simbiosi, però è importante fare in modo che ciascuno cresca a livello di individuo. E quindi, quello che ti consiglio di fare è scopri qual è la cosa che ti renderebbe felice al di là della maggiore presenza di lui. e buttati anima-corpo in quello. Tenta, prova, esci con gli amici, leggi, leggi, fai un corso serale, trova un lavoretto, che so, barista, nel bar al sabato sera, una roba del genere, che magari per te può sembrare una cosa piccola, ma magari lo fai e dici, cavolo, mi piace, e magari puoi anche sentirti, in un certo senso, meno, meno sola, ma non solo sola perché non c'è lui, ma anche perché magari, secondo me, senti anche un po' la pressione del fatto che lui sta correndo, cioè correndo, ha entrato in una nuova fase della vita e tu ti senti ancora un pochino indietro, ma in realtà non c'è da correre nella vita, però devi allontanare anche questo aspetto, questo pensiero, questa paranoia, perché è solo una paranoia, non farla pesare, non pesagliela, cerca piuttosto di concentrarti su quello che a te piace, che può essere un hobby o può essere un lavoretto, effettivamente. Trova la cosa che ti renda veramente felice e poi se diventerà effettivamente un lavoro tuo, allora sarà anche bello parlare tra voi del vostro lavoro, di quello che fate, proprio anche in vista di costruire anche un futuro insieme, secondo me è una cosa molto bella. Quindi pensa questo, entra in empatia con lui e magari anche quando c'è da sgridarlo, perché magari ti trascura a pallo, cioè perché no, cioè è quello che senti, sei sincera, però dall'altro lato cerca di capire le cose che ti rendono felice e concentrati su quelle. Questo è il mio consiglio, è un bocca al lupo e fammi sapere. Viziatina03, mi sa che sei una fan di Dennis Dosio, ho bisogno del tuo aiuto, ho una cotta per questo ragazzo, Cupido01, un ragazzo piuttosto timido. Ultimamente ho notato che sul pullman continuo a fissarmi e sorridermi, tipo così. Ok. Visto che abbiamo la prova di italiano in comune, sono andato a parlare nelle ore in cui aveva la classe di Cupido01 e ho portato la mia BFF. Uscite dalla classe, la mia BFF mi ha detto che Cupido01 mi ha fissata per tutto il tempo e che quando un suo compagno gli ha detto smettila di guardarla, lui è diventato rosso come un peperone amore. Secondo te che le cose che sono successe ai numerosi sguardi, lui che diventa rosso, possono indicare un particolare interesse da parte sua mi sto solo illudendo. Ma a te piace, non l'ho capito. Comunque, è B, sì, il pensiero che io possa piacere a qualcuno mi sembra quasi impossibile. Ma perché? Perché? Ci si può innamorare veramente di chiunque. Stai tranquilla. Ma più che altro non l'ho capito se a te piace lui. cioè a te piace lui. Non è chiara questa cosa. Quindi cerca di farmela capire. Perché qui si predica bene e si razzola male. E se a te piace perché non parlargli? Cioè, anche buttarla sul ridere. Guarda, vuoi una fotografia? Tipo, non lo so, la butti sul ridere. Scherzavo. Bella ziii. Cioè, che moda. Non lo so. Mi la butti di così. Cioè, devi essere anche ironica. Lanciarla sull'ironia. Va che mi accorgo. Dovevi cogliere il momento in cui il ragazzo, l'amico del suo gli ha detto smettila di guardarla. Dovevi dirgli una roba del tipo ma che guardi pure. Non lo so. Fare un po' la diva. Oppure, non lo so. Cogli l'occasione per parlarci. Cogli l'occasione anche per conoscerlo. Poi magari non ti piacerà. Oppure, se ti piace, chi lo sa, può nascere qualcosa di bello e bellissimo. Questo è il mio consiglio. è un bocca al lupo e fammi sapere. Ciao Matteo, ho bisogno di un tuo aiuto. Snow White mi scrive. Sono fidanzata da un anno e adoro il mio ragazzo, ma ultimamente un ragazzo sta avvicinando a me di... che sembra cercare continuamente attenzione nonostante gli abbia detto milioni di volte di essere felicemente fidanzata. Oggi in particolare mi ha chiesto un passaggio in macchina e continuava a stuzzicarmi, a farmi il solletico. Mi ha chiesto di uscire. E nonostante i miei no categorici e le continuo allusione al mio ragazzo, lui non sembra darsi per vinto. Come posso fargli capire che mi interessa solo come amico? Allora, se diventa veramente pesante, basta. Cioè, basta. Cioè, gli hai detto no categorico, gli sono fidanzata sia mio amico. Gli hai detto in tutti i modi. Se diventa pesante, molesto, ovviamente basta. E arriverei anche a dirlo al tuo fidanzato. Cioè, obiettivamente, gli dici guarda, tesoro, non penso che sia pericoloso perché se tu me l'hai messa così mi sembra solo uno che non si arrende ma non mi sembra... Cioè, un po' uno sfigatello sostanzialmente. Quindi, tu dillo al tuo ragazzo comunque, non è giusto che non lo sappia. Cioè, c'è un ragazzo... Magari non dire il nome ma dici c'è un ragazzo che ci prova con me e io continuo a dirgli no perché sono fidanzata con te che devo fa... Cioè, oppure se hai paura che magari il tuo ragazzo faccia il geloso picchi gente, non lo so, confidati con delle amiche. Cioè, trova una soluzione concreta perché da quello che mi hai scritto quello che ti posso dire è semplicemente evitalo. Evitalo. Soprattutto perché ti rende la vita pesante. Ma proprio dagli l'out-out. Gli dici o la pianti o io me ne vado. perché veramente c'è una mancanza di rispetto anche nei miei confronti. Ma perché è una mancanza di rispetto nei tuoi confronti? Cioè, praticamente ti sta sta praticamente cercando di andare a razzolare nel prato dove gli è stato detto no. Cioè, ma che brutta immagine che ho detto vabbè comunque l'idea è cioè, ti sta mancando anche di rispetto secondo me perché tu gli hai detto no, 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 no e continua a fare il furbetto. Cioè, un conto è scherzare. Un conto invece è perseverare e arrivare non mi sembra questo il caso però ti è chiesto solo di uscire però se iniziare a diventare molesto non va bene non va bene quindi dagli un out-out e fammi sapere in bocca al lupo un bacione caro fumacupido sono diavoletta 19 e ti scrivo per chiederti di aiutarmi perché ancora non ho imparato ad essere subdola nonostante non mi perda le puntate di fumacupido ma com'è possibile allora? Inizio a raccontarti i miei problemi trash amorosi ho una cotta per un ragazzo ho un gioetto 21 non ho il coraggio di farmi avanti per una serie di motivi il principale è che siamo conoscenti da parecchi anni ma non parliamo mai ci salutiamo a malapena è una storia lunga ma per farla breve ci siamo conosciuti facendo lo stesso sport e mi ero presa una cotta sin da subito dopo un po' lui aveva iniziato a scrivermi probabilmente perché a causa di amiche in comune con cui mi ero confidata gli era arrivata voce che mi piaceva e mi sembrava gli interessassi pure sono riuscito a rovinare tutto a causa della mia timidezza perché più di una volta avevo cercato di creare occasioni per stare un po' da solo e parlare lui chiedendomi di vederci ma io mi divincolavo sempre come ti divincolavi? perché ti teneva ferma e sicuramente lui doveva aver pensato che stessi prendendo in giro infatti dopo un po' ho smesso di scrivermi anche giustamente tutto ciò è successo sei anni fa e nel frattempo pensavo di essere riuscito a dimenticarlo e non ci avevo più pensato poi qualche mese fa inizio a vederlo più spesso perché riprendo a praticare regolarmente lo sport in comune e mi rendo conto che sono ancora a cotta di lui vado a rileggere i messaggi che ci mandavamo anzi gicca trash non avevamo whatsapp quindi comunicavamo via mail adoro e realizzo che l'avevo praticamente respinto più volte e nemmeno me ne ero resa conto quindi ora non so come fare se avessi più coraggio andrei a parlargli magari chiedendogli scuse e proponendo di ricominciare da capo ma non ho confidenza con lui e la timidezza mi impedisce di prenderlo da parte e parlargli francamente inoltre ho il terrore del rifiuto perché chissà sia ancora minimamente interessato se l'ho mai stato senza contare che non ho mai fatto il primo passo ho pensato anche di scrivergli una lettera ma non saprei no ma non saprei come dargliela mi sembra la mia ennesima la trovata per scappare da soluzioni difficili altra soluzione potrebbe essere visto che ho il suo numero di telefono invitarlo ad uscire magari far finta di niente di provare da capo ma non so sul coraggio di propogli di uscire così dal nulla dopo anni che non ci parliamo ti prego aiutami non so che fare perdonami per la lunghezza di questa mail aspetto ossiosa un tuo consiglio di diavoletta 19 carissima diavoletta 19 fermati no drama no mail no lettere no soprattutto perché sono passati sei anni sei anni ora magari lui veramente ci è rimasto male che tu l'abbia rifiutato e per questo lui è sparito però dall'altro canto dall'altro canto cioè no non si fa più che altro perché è su passati sei anni lui potrebbe veramente dire ma che creepy questa cosa che mi scrive una lettera il suo drama cioè no quello che devi fare è far reset rewind cioè no rewind un cacchio reset e fast forward cioè fai finta no 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 far finta ricomincia da zero ricomincia da zero ma non se chiedendogli usciamo la moda no ferma perché non devi spaventarlo cioè non avere la fretta di tornare sui passi che eravate prima procedi per gradi soprattutto perché è successa questa cosa nel vostro passato quindi tu tranquilla vai lì gli chiedi come stai ciao fate lo sport in comune cavolo lo vedi pure tutti i giorni non so quando vi vedete ma comunque cogli l'occasione in cui vi vedete per dire ciao come stai è un sacco che non ti vede che non c'è niente hai non lo so hai una bottiglietta d'acqua che c'ho sete trova il momento per chiedergli qualcosa secondo me anche lui sente il tuo distanza cioè sente la pressure nel riparlarti effettivamente cogli le occasioni normali per ristavolare una conversazione e per dire poi quando magari conversate tranquilli tipo ah che bello ricominciare qui a fare sport che gioia cioè a quel punto dirai ascolta un caffè assieme ce lo famo mi piacerebbe sapere che cosa hai fatto in questo periodo e la butti così proprio fast forward guardare avanti siamo maturati non è più il tempo delle mail esiste whatsapp e quindi magari poi lui ti dirà ti devo rilasciare il mio numero e tu no il tuo numero l'ho conservato adoro e quindi lui dirà che moda e il tuo no però l'ho cancellato perché tu non mi rispondevi mai maledetta e tu dirai vabbè tranquillo tranquillo eccolo qui e gli detti il numero cioè easy easy procedi easy zero pacchi e solo swag questo è il mio consiglio in bocca al lupo un'ultima mail panico da pagina bianca 77 ha un problema amoroso che novità volevo proporti un mio dilemma che sembra bene come mi faccia mille pacchi se davvero poco swag mi sono da poco aperta esperienze e avventure sentimentali con scarsi risultati io però sono davvero una frana nell'arte della seduzione e mi mandano nel panico le conversazioni via messaggio solo di affogare un bicchiere d'acqua e che per via di whatsapp ho troppo tempo per pensare eventuali risposte prendo così totale spontaneità nelle conversazioni mi sembra sempre di dover scrivere chissà cosa per stupire l'altro e mantenere vivo l'interesse affinché ci si possa rivedere sarà che sono parecchio sfigata ma mi è successo più volte trovarmi dinanzi al fenomeno del ghosting per quanto fossero cotte appena nate quindi davvero niente di serio non ho ancora una stabile frequentazione cosa devo fare per non avere in futuro l'ansia nel chattare con la persona che mi piace ho provato mille volte a pensarla come una semplice chat d'amici ma i miei ormoni non me lo permettono tendo a realizzare le mie cotte e soprattutto il possibile futuro con loro no non si fa il stucco che faccio un stacco di castellinaria e sono ancora innamorata dell'amore male quindi di fronte alle persone finora incontrate subito messo davanti le mie aspettative no le fai scappare e soprattutto tu ci rimani male smettila di far così aiuto vorrei imparare a divertirmi nel sedurlo ed essere seduta e non viverla come una corsa all'ostacolo i tanti baci baci anche a te grazie per i tuoi video e il tempo che dedica a questo canale per ringraziarti ti dedico una poesia di Benny ah per l'azzucco che mi ha fatto messare alla sub dell'azzucco allora dopo la leggo in privato adoro fantastico grazie allora dopo l'azzucco la cerco e la coccolo le leggo questa poesia quindi grazie mille allora il consiglio è basta film basta essere innamorati dell'amore basta pensa ad amare te stessa quando qualcuno ti scrive o flirty con qualcuno online non è che devi rispondere subito cioè ci sono anche dei momenti in cui è giusto lasciare sospesa la conversazione oppure se hai il terrore di dover ansia sii tu quella che dice scusa ciao adesso da fare ti saluto ci sentiamo dopo un bacione e lui ciao ciao e poi anche se gli scrivi tu dopo ok perché comunque sei tu che hai troncato la conversazione quindi gli dici il giorno dopo ciao come stai tutto bene procedi per gradi non c'è bisogno di fare un flusso di coscienza cioè anche perché poi soffochi mandi nel panico cioè easy calm down e devi veramente parlare in modo semplice stai conoscendo le persone non mettere la loro ansia non mettere la loro fretta loro se ne accorgono dicono ma questa qua già pensa al matrimonio che angoscia easy easy veramente cioè stai uscendo per bere un caffè i tuoi armoni impazziscono va bene ma impazziranno anche per lui probabilmente o per lei cioè con la persona con cui esci quindi è lo stesso è condiviso magari qualcuno con intensità maggiore ma piano piano calm down esci per conoscere una persona l'amore succede dopo veramente l'amore accade non te lo cerchi e per quanto sia difficile darti un consiglio pratico quello che devi fare è inizia a chiederti che cosa ti fa piacere le persone cos'è la cosa che ti rende veramente innamorata di qualcuno è veramente solo l'idea di stare con qualcuno chieditelo nel frattempo basta castellinaria basta questo è il mio consiglio in bocca al lupo e fammi sapere ed è anche oggi il fumacubito termina qui di nuovo con questi casi disperati di trash amore io sono esausto e vi leggo un'ultima frase per rimorchiare ah no le ho chiuse l'unica frase per rimorchiare è si subdolo cavolo e quindi mi aspetto anche da voi tutto questo mi aspetto che anche voi lo siate che procediate nel cammino della vostra esistenza per essere sempre ok Grazie a tutti.